Dico qualcosa E lascialo giù che tanto non mi ha esperienza di nessuno di quel canale lì E lascialo giù Prova Comunicato obliquo delle 22.07 Ci troviamo nello spazio culturale d'emergenza di obliquo Dietro la tenda si è conclusa la performance agitazione e sovrapposizione con superficie trasgressiva Si può vedere il lavoro finito dietro la tenda Dall'altra parte sul muro della scuola Gide Giacomi sta concludendo la sua performance Potrefazione e proiezione Scusa, quando li tiri giù poi Quando spegne tutte le due c'è sto rumore Nella tenda in questo momento Io devo spegne tutto dopo quale dia Inizia la performance elettronica tribale che sarà seguita da Indurazio Penis Plastica Performance di musica elettronica e computer grafica Dopo ci sarà la proiezione del film Nosferatu Si può attaccare un piano da un altro canale Comunque io le voglio spegnere tutte Deve restare completamente buro Quali sono? Quei due là? Quei là in fondo? Uno lo trovo eh Ricordati qual è quello che puoi spegnere tutto allora Questo no? No, l'è in fondo ma Questo? No Ecco, quello lì Ok, secondo Ti ricordi? E qui e qui Ok Ricordi che quello anche Quello lì? Te lo ricordi? E per spegnere quella Questa è la parte 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 Sì, ma la questione dovrebbe essere un altro canale, dove sotto, è troppo bassa, vediamo regolati i canali, vediamo regolati prima, stiamo a resta. Comunque, comunque, non è il tempo che, perché si arriva in un sistema, che si chiama, che si avvicinama l'intero, chiede la volta, nonno, no, nessuno è il massimo di contrata, devi tirare il cuo abbastanza. Ti senti? Grazie. Grazie. A che punto è arrivato? È una fase di putrofazione. Non ti ha rotto i coglioni nessuno fino adesso? È molto buono. È abbastato un po'? È abbastato. ública in fondo. ��� cambi Sì. ma domani devo guardare per un massimo da 10 litri faccio due o cinque un pesto, una cosa così un coso dell'estate un pesto esilico un minestrone no, un minestrone ma al sud della Francia ah, è freddo? no, è caldo ma va bene l'estate un pesto, no? un uomo un pesto si però prima è così prima questo internavolo qua non lo registi questo non è indietro però sta pronto ma dai, la facciamo così i barancioni ah, non lo vuoi adesso è capitato malissimo ci sono andati senza alto adesso adesso lo spallo sono andato a bermi la birra del scocca no? la birra del scocca no, no ehi digami questo è bravo è che l'ha accusato anche questo qua magari vedete la stella mozza mi provate senza birra non c'era però ci sono andati in ascolta si, non ci sono andati però non andiamo si 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 infatti dopo dei snapperi magari in pevic è una birra ma si è un belto da birra senti quando quando studiamo poi il giorno è la prima parte non è ma si non è non è non è non è non è ma si non è una ma non è che non è non è non è non è che non è Sì, sì, sì. Grazie. Non usi più il metanomo? Eh? Non usi più il metanomo. Ah, giusto. Una travola qui non è arrivata che si ferma, non me ne accanto. Non c'è l'esistenza che però sta... La tua chiesa... Signore, ti adoriamo e ti ringraziamo. Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo, pane dei pellegrini e pegno di vita eterna. Signore, ti adoriamo e ti ringraziamo. Signore, ti ringraziamo. Signore, ti ringraziamo. Signore, ti ringraziamo. Signore. Signore, franc ISA. Signore, la parola. Signore, figlie! Signore, grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 per una ventina di minuti. Noi proiettiamo il film asperato, anzi appena le macchine sono a posto quest'anno scarti dati da fare. Lui scappa. Grazie. 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 Grazie.